Ragazzi bentornati in questo nuovo video di Brawl Stars Saluto Ciao raga Saluto Mary 014 Dio non ho sbagliato Colpito Colpito è stato Colpito è buono Non è perché mi ha ammazzato Non la volevo aprire Volevo colpire Ti ricordi quando dicevo Non è perché mi ha ammazzato Non è perché mi ha ammazzato Non è perché mi ha ammazzato Ammazzatelo 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 Beh Adesso mi chierò qua bene Non è perché mi ha ammazzato ti immagino per essere a livello 600 già a posto eh però non vorrei dire io ho sbloccato a 2.000 qualcosa io ho sbloccato a 1.700 poi ce l'ho sbloccato a 2.000 no io ho sbloccato subito no io ho 2.000 no io ho 800 no io ho 1.000 no io è il primo no Pojo e Penny li trovate alla stessa cassa no Penny sticca sticca è un genio è un genio è un genio è un genio no 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 Siamo divisi, tu al sinistro Sì, vai Vai Ignorante, mi ha colpito Vedi, raffaggiamoci ancora Vedi, capire Mai Ma Guarda, costa 98 Toglie 900 Nital Sì, toglie 900 Cambio Io Nital me la potrei fare Non so All'otto me la posso fare quasi Buono, lasciamo All'otto Eh, guarda Fu quasi all'otto Let's go Che c'è del seno Un bocchio per un periodo L'affaggiamo l'ho fatta un sacco Mortis, ce le piglia subito Mortis Non ce l'ho chiamata Modila sta Mortis Che sta Mortis Te lo sei chiamato, Fran? Ce l'ho le due No Tutto Fran, te lo sei chiamato, Mortis Oh no Te lo sei chiamato No, no, ci stava Ci stava Ma io no E' un po' di è è è è sapessi No, aiuto, non ho poca vita. Cosa fai, Luis? Non è un peccato. Cosa c'è? No, 5 secondi in più, Fra. No, non ho poca vita. Io mi pio un altro, Fra. Io mi metto un'altra cosa. Mi pio un altro. Dai, il nemico. No, vabbè. Aiuto. Ma se c'è un... Io mi metto un... Perché mi metto, Fra. Gigi, Gibroski, Escheri... Perché non ti fai parlare l'altro tre? Non mi voglio fare tre. Fra, scat! Io, io, Jesse. Io, Jesse. Gio, bro, non è uguale. Mettiti shell. Mettiti... Mettiti shell. Scegli. Tandaretatatata... Tandaretatatatatoum. Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi. no domani non posso noncomi perchè sono da fare un disegno di arte che è difficile come la morte no no, no, no che sei freddo i freddo aiseria venite freddo freddo è risultato E' più pesata Sulla torre di chi? Fraccio 874 in vita Vieni qua c'è uno da dentro Mary c'è uno? Mary Mary ti vuole scelta eh Cerceva lì Mary Cerceva lì La roba bella No ma Ci sono rimasto male Oh io voglio indifeso Aspetta però io c'ho un Boh è schiattato Ho colpito Metto cosa? Frappena entra A me lo vedi cu cu Se no l'ammazzo Se no l'ammazzo Ski atto qua Nooo 160 di vita Fu una 160 di vita Si No Che vergogna 160 di vita Vergoncate Aiuto qui Scappatene proprio Un po' Oh, Ioannos! No! Cosa stai combinando? Ma che cos'è? Eh, è morto! L'hai fatto insegnare al muro! E Gigi, i brothers Gigi Comunque ragà, Gigi per Mary perchè Mary è forte Mettetevi proprio Non viene scontro Mary Eh, non gioca Eh, si è stancato Ha giocato troppo bene Dai, vabbò finiamo qua No No, facciamo un'altra Ho cercato Mary È un altro sconto, è vinto Un altro sconto tanto è vinto Dai gioca Mi sa che non gioca Sì Un altro sconto Un altro sconto Un altro sconto Un altro sconto no 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 lo vedi con la scelta ho fatto la roba con una buona è diventato un polaretto cosa dici non l'avevo pensavo che fosse shelly no un'altra persa eh sta ferma vabbè si vede avrà avuto qualche problema di linea però non giudicare se ho intrecato aspetto le faccio con me però sta di qua lo sapevo me lo sentivo inghiacciato raga meno 4 sono contentissimo no io mi cambio lo metto contentissimo oh fra perchè non ci facciamo una re nooo non hanno ancora messa blu 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 dai mi mancano 20 punti di corvo per portarmelo tipo al 5 mi pare oh oh hai scelto il primo ho scelto il primo con la skin ho scioppato con un torneo vinto è il primo lì ho scioppato la casa non è vero io tipo fuori scuola mio amico aveva 35 gemme tipo allora io ho detto dammi il telefono ti faccio un hack per avere tutti i personaggi io sono andata a prendere colti io ho scioppato coltoro che schifo guarda cosa ha scritto aspetta puoi mettere footbrullo perchè c'è footbrullo no c'è assedio c'è footbrullo c'è assedio speriamo che ce l'ha lei facciamo assedio assedio per uso questo ma guarda chi mi dica no qualcuno che spara spera mettiti qualcuno che spara eh però no questo perchè la torretta spara al robot oh bu incontriamo i scarsi incontriamo ahia il braccio mi si sta staccando oddio il braccio storto perchè c'è lo schermo storto? c'è lo schermo molto storto no Mary il chiodo Mary Mary il codo il codo il codo spaccio il codo prendo io ma sono nanti questi ma sono nanti questi ma sono nanti sul codo bravo oddio mi mangia ah vado Why Ehm, 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 c'era un genio molto brutto e non uccidere No, si fa... Oh, ragazzi, non mi dico, guarda Guarda, guarda Grande, grazie Per rompere le palle Sì, voglio mettere il favore E tanto non ci fanno, Dani Non ce la fanno, Dani No, no, sono solo solo io Mi sa che ce l'hanno fatto? Non è così Facciamo video di clickbait Abbiamo vinto Mi sa che è tuo padre che ti stai chiamando? Non è mio padre Cioè, sì, è mio padre Però dove hanno? Ma cosa ho fatto? Un, due, tre Vai Tre Schiattiamo qua Oh, culo Oh, non ci dico si chiama Mimeri Dai Oh, non ci rompete il robot prima che entra Dov'entra? Dov'entra? Ok, ok Ok, ok Pum E io ho detto di valutti Non li dovete prendere Mh, sì, non li vedo Non abbiamo fatto niente di danno Però questo non c'è No, non c'è più di danno però È un zinco qui Sì Sì Aspetta Superi tre con l'occhio Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è niente di quell'ora Ma non c'è niente di quell'ora Ma non c'è niente di quell'ora Oh Dio Subito vattene No, non c'è niente di quell'ora No, veniamo Olio Vero, guarda, guarda Sì Sì Farrossa È un'apro team Sì Forse ne hai capito di chi sta parlando Pò 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 PORO PORO Abbiamo vinto Sei fortissimo Oh sport PORO 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 Oh ma poro ci sta tipo sport poro Eh Flair Popo PORO PORO No veramente ci sta È una cosa sguera Oh non ci dice Ci dice queste cose Oh poro 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 Sì ma alla fine stai registrato Steph ma alla fine stai registrato Ti troverai su Youtube Beh Più trofei No 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 Non è normale Non è normale E' da discendente Amenzuolo Io credo di staccare il video Se vi è piaciuto Ok Sciate il like se non vi siete iscritti al canale Iscrivetevi Iscrivetevi Salutiamo di nuovo Mary Bella Mary Ci rivediamo in un prossimo video Bella Bella raga Ciao